La prima pietra della nuova casa del buttafuoco storico, a cannetto pavese posata, inizia ufficialmente il conto alla rovescia di circa sei mesi per veder nascere una struttura su due piani in grado di accogliere e raccontare la storia di questo vino rosso che è sempre più simbolo della voglia di riscatto di un territorio troppo spesso ai margini della grande enologia internazionale. L'ambizioso progetto è stato reso possibile grazie ai finanziamenti ottenuti da Regione e Lombardia e da quelli messe a disposizione dalle 17 aziende agricole associate. Il club è in crescita, consolida le sue vigne e è sempre alla ricerca della qualità, quindi noi continuiamo in questa strada portando avanti il nome del territorio prima di tutto e poi certamente il nome del buttafuoco storico. Si guarda al futuro, un grande investimento dei nostri soci, dei soci del club del buttafuoco storico per posare una pietra, una capsula del tempo per costruire una nuova sede, un wine bar dove poter accogliere al meglio il pubblico e guardare al futuro della Valle Versa. È una struttura importante, comoda per poter accogliere le persone, avrà un'enoteca dove poter comprare i vini, un wine bar dove poterli abbinare a prodotti del territorio e poi una bellissima terrazza panoramica dove faremo tutti gli eventi per accogliere al meglio persone nuove da un po' da tutto il nord Italia. Nel nostro trepo ci sono delle grandissime realtà, questa è una di quelle ed è una bandiera che può portare il messaggio di un oltrepo importante in tutta Italia, non solamente nel nostro territorio e non solamente a Milano, anche se è importantissima quella piazza, però il buttafuoco è un po' uno dei baluardi dei nostri grandi vini e quindi questa è una grande occasione. Assieme ai produttori che fondarono il club 26 anni fa, molti sindaci e autorità della provincia di Pavia hanno ottenuto a battesimo l'avvio del cantiere e in molti hanno scritto un pensiero su un foglio di carta, inserendolo poi nelle bottiglie che saranno sotterrate assieme ad una celebrativa dei 25 anni dell'associazione sotto alla struttura, una capsula del tempo che permetterà alle generazioni future di conoscere la voce di chi più di un secolo prima di Edelvia a questo progetto. Quali le sfide future di questo territorio in particolare di cui il buttafuoco è diventato insomma un po' la bandiera? L'oltrepo oggi sta vivendo una grande rinascita, un momento di start up intenso grazie al lavoro del Consorzio e grazie anche un pochino al nostro lavoro. Quindi puntando sia sul Pinot Nero che sulle altre perle come Bonarda e Rizin c'è certamente anche il buttafuoco e il buttafuoco storico. Quindi tutti insieme facendo squadra, andando in nuovi mercati e consolidando naturalmente quelli già esistenti perché non dobbiamo dimenticarci i nostri mercati di riferimento ma dobbiamo sempre andare verso l'estero, verso nuovi orizzonti.